Arianna Bellastro, direttrice della Riviera Shopville di Arma di Taggia, siamo qua in questo centro commerciale. Tra pochi minuti ci sarà una manifestazione. Di cosa si tratta? È una manifestazione organizzata a livello nazionale, nella quale i negozianti dei centri commerciali, dei parchi e delle gallerie chiuderanno le serrande per 5 minuti. È una chiusura per riaprire. Lo slogan è questo, quindi chiudiamo per riaprire, per cercare appunto di avere delle risposte da parte del governo in merito alle riaperture dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. Ecco, intanto vediamo che sembra che qualcuno stia già iniziando a chiudere. La protesta inizierà alle 11, adesso insomma qualche minuto di organizzazione, comunque sia sì, dalle 11 per 5 minuti i negozianti abbasseranno le serrande. Ricordiamo che nei centri commerciali in Italia lavorano migliaia di persone, quindi migliaia di famiglie che dipendono quindi dai centri commerciali, per cui facciamo sentire la nostra voce per riaprire nei festivi e prefestivi. Ecco, intanto vediamo che qua stanno già incominciando a tirare giù le serrande. L'adesione all'iniziativa più o meno numericamente è stata completa, c'è stato qualcuno? È stata praticamente totale, è stata molto sentita questa iniziativa. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.